welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao a ora ora laura benvenuti cari amici benvenuti tutti oggi andiamo a reazionare una canzone che mi sto addentrando sempre di più nello street food coreano wow wow quante persone immagina quanti youtuber ho visto e reazionare cibo mi piace molto anche chi non piace il cibo ma il cibo coreano è molto buono visto tutte queste salse tutte queste cose buone ma voglio mangiarne anch'io sto seguendo di una persona che mangia veramente un poco troppo perché si mette tante cose da mangiare e mangia veloce però ho visto veramente è una cucina secondo me buona c'è il riso c'è la carne c'è un po di tutto verdura si 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 poi c'è una verdura con una salsa che sono come incoglie incoglie che sono scritta verdura comunque comunque amici scusateci vado a venire fame anche noi ci è venuta c'è venuta fame sì sì perché è un orario che a quest'ora si dovrebbe cenare e quindi andiamo a reazionare i forestella bellissimi grandi forestella grande gruppo grande fantastici gruppo che ci fanno viaggiare volare e ci fanno emozionare soprattutto quattro membri di una band fantastica armoniosa e andiamo a reazionare una canzone che si chiama laura time bottle time a bottle time in bottle vediamo che canzone sarà spero che vi piaccia ma spero che ci piaccia anche noi ma i forestella bene o male ci emozionano sempre ci fanno viaggiare sono bravi sono bravi siete pronti amici tutti quanti andiamo ci fanno Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti